No, no, questo me lo porto per i gatti, non so se lo mangia. I gatti? Oh, la buccola è andata. Ma vogliamo che sto dando le lavagne? Cad'è? No, tranquillo. Ma cazzo fai? Che è un cucchiaro? È la prima volta che vedo papo fa cucire. E non mangiare porco, dai! E non mangiare come gli porci! E dai, sta mangiare porco, sta mangiare, madonna! Ah! Grazie a tutti.